secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ehi Letzgoski vediamo se riusciamo a letzgoscarlo l'ho letzgoscato e allora doppio Letzgoski è doppio per forza piede destro piede sinistro Letzgoski questo mi fa sentire meglio coca got in casa come l'incenso quando fumo devi fare silenzio no 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 sto cucinando devi stare in silenzio Roma centro ricordo no 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 ritorno indietro così poi la riprendiamo bene la canzone scusate se fermo non ci sto si io non posso dire in stream se io se io provo a dire in stream la parola monster mi entrano da lì a lì mi svuottano casa si arriva in etiopia e si lanciano tipo a inizio della campagna the war the warzone però fratello lui ti fa bevo Red Bull che è io no mi ha aperto la porta in office io ho detto in basso all'angola sinistra in culania e poi gli fa un urlo del bro ho messo il tracker e infatti ho detto fermi tutti dimmi dov'è perché l'ho seguito si seguiva Manu va bene noi votiamo Manu però se poi non è Manu votiamo te eh vota me va bene c'è chi non saprà mai che non è Manu lui che rispondeva sì ma lui che ragazzi l'ha massacrato Salmo rispondeva no non c'è storia non c'è storia siete ridicoli sì sì è ridicoli Morrix è Joe Puma Chuck Lion grazie per l'isabetta benvenuto fatemi uno spammetto di Paul in chat per le giftate per favore grazie io non ho mai sentito neanche una traccia di Niggi Savage la prima cosa che devo sentire è un diss a Tony F quindi comunque secondo me è significativo Jack è quello alto con la barba Johnny bentornati e benvenuti boys ma in strungo me saluti a me e il mio amico Raul certo Raul ciao e sdrago e sdrungo ehm ok ecco ok ok come sei sulla parte dei romanisti che guardano con un occhio di disprezzo assoluto la società sia dall'altra parte sono stranito dalla scelta della società tutte e due un pochino come 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 visione danno fanno un po' di acqua la prima perché è molo molto semplice cioè nel senso se tu rinnovi la persona gli dai tre anni e poi gli fai il mercato comunque sulle scelte Nussussussussussussu sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su, sulle mani su anche il suono sulle mani su Ok no, al Lazar L'angelic dlesessuolo Yeah, looks like I am homosexual Sono giorni che non bevo Dove cazzo l'ho aperto zio porco Dall'altra parte I'm so sorry Ti auguro il peggio Il cancro Ah sono morto pure io Porco, oddio, porco Billy, Billy, ma Billy, ma che cazzo stavi a fare Ma tu puoi entrare se hai giocci qualche mano No, no, no Billy, Billy, ma seri cazzo Billy, ma vuol che ti scordisco al son di cappellati infatti No, no, no Non ti provare nemmeno No, yes, amato, we, as human Frate Che fai te Bro 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 Blue thinks he is him But he lost all his aura With just one move Ma che cosa è successo? Sei ucciso, così? Sì, escono da lavorare Bro Ma non è Cazzo, lo conosco questo Comunque al volo mi provo a ricordare Io sì, volevo La mia idea era fare la 12 ore lunedì E se invece entro il 21 Arrivavamo a 60.000 sub Farla diventa 24 ore Questa era la cosa Poi la butto solo lì Ma non penso sia Lascia, lascia, lascia Salire giusto Basta, Cucu Ma sarà qua, secondo me è sopra Secondo me qui c'è sta Il collezionabile del merda, Marzo Non lo so già Però a sto punto ce vado Porco Dio c'è sta il collezionabile del merda No, queste mie puttane Già, già vedo tutti i due che ride Già vedo già i tazzi che sta ride Già vedo già i tazzi che sta ride A meno che ne abbiamo fatta la scorciata Fatta la pianda il culo Te tu madre Porco Dio Porco Dio Porco Dio Ma? Ah, perché quella sembra chiara Forse E questo è troppo deep La mia seguente No, ecco Questo non Non è Non è Questa è la Ho deciso Nuova Nuova inquadratura Dove è attaccata la webcam? Ve lo farei vedere È sulla maniglia della porta Infatti è strana È storta Cioè, tecnicamente posso addirittura fare questa cosa Vedi? E adesso si muove Effetto shaky shaky Porco Dio Eh? Pazzesco Però addirittura faccio delle Faccio delle ricette senza paprika È allucinante questa Gira sta voce Lukemi bentornati e benvenuti Alza il braccio Dark Notturno Gas La chat è doppia C'hai ragione Perché ho sbagliato No, 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 no No, regà, no No, scusate, scusate Ho sbagliato È che mi riparto ogni volta che cambia la scena Eccomi No, sono vivo Sono vivo No, no, no Ne preoccupateci Mettiamo se di qua Ok No, è in telegiornale Lasciate Niente Ah, rubi Ha infilato bene la lingua Qua Qua Piscala Oh Eh L'altra sera, eh Mi ho visto una clip Importante Eh vabbè 200 sub 200 sub Che fa Cazzo 200 sub Preferisco Fammele 200 sub E bacia una Piuttosto che Bottammele Come fanno Tanti altri Tipo 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 Capito Oh Kertus Gli auguro una buonissima carriera Su Twitch Gli auguro una buona carriera Su Twitch A Kertus E gli auguro di divertirsi Ancora ulteriormente Su Grand Theft Auto 5 Eeeh Eeeh Vado Guarda Analizza bene la luce Della pietra Eeeh E' pazzesca Come batte Questa luce Su questa pietra Che Beh Mi ricorda quasi Del marmo di Carrara E' veramente incredibile Ragazzi Andrò un attimo in bagno A masturbarmi Se è possibile Eeeh Oxi Play Bentornati e benvenuti Eeeh Continuiamo Continuiamo Tiragliene in altro Tiragliene in altro C'è stato Vai M'ha fatto M'ha fatto Andate via M'ha fatto Andate via A posto A posto Manciale si è fatto E' la caliente Ma che sto a fare Questo sta a giocare con noi Non l'ho capito